Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Polonia, per traffico intenso. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove troviamo rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e BV11A1 in direzione di Firenze. In Fipilì ancora una volta verso il capoluogo, coda a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici. Possibili rallentamenti anche all'altezza di Empoli Est nelle due direzioni per presenza di personale su strada. A Firenze traffico sostenuto sulla direttrice porta al Prato Fortezza Piazza della Libertà. Nell'ambito dei cantieri tramvia questa sera dalle 21 lavori di asfaltatura in piazza stazione, previsti restringimenti di carreggiata nella corsia da Piazza dell'Unità Italiana a Largo Alinari. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!